Siracusa, la ZES incontra ai territori, strumento di attrazione, investimento e sviluppo, dibattito costruttivo al CNA. Si svolgerà a Siracusa nella sala Pietro Speranza di CNA in via Trapani alle 15.30, all'incontro organizzato dalla consulta dell'Associazione di Categorie di Siracusa, avente per tema la ZES incontra ai territori. Quali sono i fattori che fanno dell'AZES uno strumento di attrazione degli investimenti e di sviluppo del territorio? Non solo agevolazione e incentivi, ma anche procedure semplificate per la realizzazione degli investimenti, nuovi strumenti per l'avvio di imprese e un sistema logistico portuale integrato. Presenti Alessandro Di Graziano, commissario della ZES Sicilia-Orientale, Francesco Di Sarsina, presidente dell'area del sistema portuale della Sicilia-Orientale, Massimo Scatà, responsabile dell'ufficio ZES, area di sistema portuale Sicilia-Orientale, Massimo Cartalemi, project manager ZES Sicilia-Orientale. A chiudere l'incontro, dopo il questo dibattito, l'assessore alle attività produttive della regione siciliana, Mimmo Turano. All'incontro sono stati inoltre invitati tutti i sindaci della provincia e la deputazione regionale nazionale del territorio.